Sandro vs Serbia, ma questo Danilo signori! Ciao amici di Passione Bianconera, bentornati all'interno di questo nuovo video. Oggi parleremo della partita che si disputa da ieri tra Brasile e Serbia, vinta 2-0 dal Brasile. Prima di questo ti invito come sempre a iscriverti al canale, attivare la campanella delle notifiche, ormai lo diciamo e lo ripetiamo per sostenere questo canale, e soprattutto farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi, ovviamente relativamente a quest'analisi che oggi andremo a fare. Allora, diciamo che il Brasile ha giocato bene il secondo tempo, nel senso che ovviamente sono venuti fuori i campioni che ha, non c'è bisogno neanche di dirlo. Diciamo che la Serbia nel primo tempo ha tenuto botta al Brasile, ma nel secondo tempo sono esplosi in primis i Charlison, che adesso andremo a vedere che gol clamoroso che si è inventato da solo. Volevo dare un attimo occhiata alle statistiche. Anche qui già le statistiche parlano chiaro, ti rimporta 23 per il Brasile e 5 per la Serbia, 9 ti rimporta da parte del Brasile e 0 per la Serbia, possesso palla a favore anche questo del Brasile, e anche qui, diciamo, i dati sono nettamente a favore del Brasile. Sicuramente, diciamo sulla carta, il Brasile aveva più chance di vincerla questa partita, anche perché se noi andiamo a guardare le formazioni, Alisson tra i pali, Marchinhos, Danilo, Thiago Silva, Alessandro, Paquetà, Casemiro, Neymar, Rafael, Vinicius Junior, giocatore del Real Madrid favoloso, ha una velocità pazzesca, e Richarlison, che tutti, anzi, un certo Antonio Cassano dava per spacciato, che, insomma, non avrebbe scommesso su di lui neanche un centesimo, e mi sa che dopo questi due gol di ieri sera, penso che si rimangerà un po' la parola, e contro una formazione invece della Serbia, che non commento, insomma, non è sicuramente ai livelli del Brasile. Questi sono stati un po' i dati della partita, da segnalare un suontuoso, ormai non fa neanche più notizia, Danilo, perché, ovviamente, i giocatori della Juve, in questo caso, si sono distinti, nuovamente. Alessandro mi ha scioccato con il suo palo, che se entrava quella palla, se entrava veramente quella palla lì, era un gol favoloso, e Danilo ha fatto veramente una gran partita, cioè, si vede che ormai è proprio leader, cioè, proprio un leader, non solo carismatico, magari sicuramente anche all'interno dello spogliatoio, ma proprio un leader sul campo, cioè, si sente proprio la presenza e la tranquillità che mette un po' anche ai compagni. Neymar si è infortunato, speriamo, anche per il bello del calcio, di rivederlo presto, penso lo rivedremo ancora in campo, anche se in realtà l'entità dell'infortunio non è ancora ben nota. Chi potrà vincere questo mondiale? Ma, allora, secondo me, fondamentalmente, ho fatto uno short, tra l'altro se non l'hai già visto vai a vederlo, di quello che è, secondo me, un po' il pronostico di chi arriverà in fondo. Ho fatto una... sono partito dalla semifinale per arrivare poi alla finale. In semifinale, fondamentalmente, secondo me, quattro squadre, se la possono giocare. Brasile, io ultimamente voterei Brasile-Francia, Inghilterra, che secondo me è un'ottima squadra, e poi lì Spagna-Argentina se la giocano, secondo me. Però in finale, secondo me, arriverà Brasile-Francia. Brasile, perché c'ha dei giocatori formidabili, perché possono cambiare veramente la partita dall'oggi al domani, da un momento all'altro, e quindi questo sicuramente è una una freccia che spezza a favore del Brasile. Per quanto riguarda invece la Francia, secondo me la Francia è ancora più in vantaggio rispetto al Brasile, perché è più squadra. Sì, è vero, anche la Francia ha i suoi campioni, i suoi individuali giocatori, per esempio, uno su tutti Mbappé, però è più squadra, ci si vede proprio anche quando gioca, è molto più è molto lì più sul pezzo, ecco. Quindi, secondo me, sulla carta favorita Francia, poi Brasile, poi tutte le altre. Questo è il mio pronostico, ti invito ovviamente sempre a farmi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensi, ma quello che principalmente volevo segnalare oggi è proprio la prestazione dei nostri due Juventini, Alessandro veramente gol che se riusciva era un gran gol e Danilo formidabile. Noi per questo video è tutto, ci aggiorniamo poi magari come sempre nei prossimi video per tenervi aggiornati su altre notizie e ci aggiorniamo ovviamente ad un prossimo video. Ciao e a presto! Ciao! Ciao! Grazie per la visione!